Luca Telese, giornalista televisivo di La Sette, giornalista, saggista, autore televisivo e conduttore radiofonico, è stato ospite del Settembre Culturale di Agropoli per presentare il suo testo Cuori Contro, che non è solo un resoconto di sangue e lotta armata, è soprattutto una riflessione sul senso della memoria e della riconciliazione in un paese sempre in bilico fra generosità e amnesie. La storia di un tempo dimenticato è molto vicino, in questo paese, non molto tempo fa, ma nel 1980, si sparava e si uccideva, in questo paese c'erano bande armate, servizi segreti, stragisti, è una storia così cruenta, sanguinosa e folle, non c'è un paese d'Europa che abbia avuto tanti morti per terrorismo che l'abbiamo voluta dimenticare, l'abbiamo rimossa come si fa per gli scheletri che devono restare chiusi nelle armadi. Invece una volta pagato il tributo alla memoria a sangue è una storia utile, intanto perché siamo di nuovo in un tempo di terrorismo, un tempo in cui sono cambiati solo i riferimenti, non uccidi per un ideale politico, magari uccidi perché sei un fanatico islamista, ma le regole con cui combatti la sua battaglia sono le stesse, disumanizzare il nemico, disprezzarlo, trasformarlo in un subomano e poi sparargli o andargli addosso con un camion oppure trucidarlo come è successo a Bataclan. In questo paese la società civile da sola, siccome lo Stato era per metà impigliato negli spettri, nei vincoli, negli obblighi atlantici, la società civile da sola si è caricata questo fardello sulle spalle e lo ha elaborato. Sono madri di famiglia, sono padri, sono persone che sono sopravvissute a una strage perché un tavolo le ha coperte, una scheggia si è conficcata un centimetro dal loro cranio. Queste persone hanno traversato questo dolore e hanno trasformato la loro sofferenza in testimonianza. Luca, tu sei uno dei personaggi televisivi più in voga in questo momento con la conduzione di programmi alla sette, quindi fai giornalismo. A te, come tanti altri tuoi colleghi, la responsabilità di indirizzare anche questo paese verso una direzione migliore? Credo molto alla nostra funzione. Ho citato in questa serata il Ponte Morandi perché è una metafora potentissima di un paese che crolla e devo dire che i tanti vituperati giornalai come me, come te e come gli altri che sono qui in realtà sono quelli che scavano le notizie. Se abbiamo scoperto che 13 diverse perizie hanno detto che quel ponte stava per crollare è perché questi vituperati giornalai sono andati, si sono letti carte perché un giornalista spesso ha trovato le concessioni, un giornalista di Tiscali ha intervistato l'ultimo progettista che aveva restaurato quel ponte. Quindi bene o male noi siamo una funzione pubblica, siamo persone che nel nostro piccolo, nel nostro grande, quando ci gira o quando no, diamo le notizie che fanno decidere alle persone cosa fare nella vita. Quindi sì, è una grande responsabilità però non bisogna, il giornalista Santone non mi piace, non è che sia il giornalista che dice cosa pensi. I giornalisti sono immersi in un mondo, i giornalisti sono figli del tempo, dei loro lettori, dei rapporti di forza e di libertà che accumulano nella loro carriera. Infatti per lungo tempo mi dicono come si fa a diventare un giornalista libero e non lo so, nel senso che un giornalista libero tecnicamente è un giornalista che ha abbastanza forza per rischiare qualcosa quando il suo ditore vuole fare una cosa contraria. E non è che sia sempre un giornalista libero, lo sia quando si può fare, quando non ti sparano, quando ti pagano e quindi è una professione importante però come un medico, come un infermiere, come un qualsiasi altro. E di questa rassegna che cosa ne pensi? Oggi la cultura è difficile fare. Allora vi devo dire una cosa, per una serie di circostanze sono arrivato in ritardo perché veramente non avevo qualcosa di tempo, ho trovato traffico sull'autostrada, però io penso che in nessuna parte d'Italia, tranne in questo meraviglioso sud, può accadere che le persone ti aspettino per un'ora. Non lo prendo come un segnale all'ora della realità, ma penso veramente che qui ci sia una cultura dell'accoglienza, dell'ascolto e una curiosità intellettuale che nel resto d'Italia che si mette le stellette e dicono noi siamo la locomotiva, non siamo come quei poveracci del sud, non c'è. Cioè è come se l'Italia fosse un corpo strano come Tabeta in cui la grande testa, le fantasie e le intelligenze sono tutte collocate in uno dei territori più belli che esistano. Parliamo di gastronomia e ti lascio libero, questo è un territorio risaputo, insomma, è la patria della dieta mediterranea. Hai già qualche idea di cosa ti farà mangiare l'assessore Crispino stasera? No, non lo so, però spero che ci siano delle mozzarella. Mio padre era di Torra Annunzata, oggi non c'è più e c'era questa bellissima tradizione a casa che le melanzane vanno fitte tre volte. Quando lo spiego a qualcuno, diciamo che sia sopra Frosinone, no, ancora, mi dico ma come? Ma è una bomba calorica, è una follia, cioè quei bellissimi pranzi delle comunioni che durano fino alle sette di sera. Perché noi abbiamo un'idea, dico noi perché sono cresciuto a Roma, ma queste radici ce le ho, mia madre è sarda, mio padre è napoletano, noi abbiamo questa cultura del tempo che è diversa da quella degli altri. Anche se c'è stato un piccolo ritardo nel suo arrivo, siamo soddisfatti perché quando abbiamo individuato in Luca Telese, uno degli ospiti di questa undicesima rassegna del settembre culturale, eravamo consapevoli di poter portare al castello di Agropoli una firma importante del mondo del giornalismo, un autore eccellente e quindi abbiamo avuto un riscontro di questa nostra idea con il pubblico, con l'attenzione che ha prestato ai suoi racconti. Il suo libro è sicuramente un capitolo importante della storia della nostra Repubblica, delle pagine che molto spesso i giovani purtroppo non conoscono ed è giusto che venga letto questo libro per esempio nelle scuole dagli studenti perché ci racconta un periodo della nostra Repubblica veramente oscuro, ancora tanti episodi sono avvolti nel mistero, non si è voluto o non si è potuto dare una giustificazione a tutto ciò che è avvenuto. Vi ha appena citati gli alunni che il 13 di settembre saranno premiati in Bravo e Bello, appuntamento che ha un'età maggiore rispetto al settembre culturale, una sua creatura, una grande idea per premiare la meritocrazia a scuola. Sì, si rinnova anche quest'anno e dicevi bene tu, addirittura un anno in più di anzianità rispetto al settembre culturale, siamo arrivati alla dodicesima edizione di questo premio e sul palco del castello di Agropoli saliranno le eccellenze della nostra scuola, i ragazzi che hanno conseguito con il massimo dei voti il diploma di maturità, sono quest'anno 37 ragazzi, 35 del liceo Alfonso Gatto e 2 dell'istituto tecnico commerciale. E' un momento anche dopo l'apertura dell'anno scolastico, coincide in questo senso fare un punto sulla situazione della scuola, un momento di confronto tra studenti, docenti, i dirigenti scolastici, l'amministrazione comunale. Ci vediamo tutte le sere su Cilento Channel, servizio pubblico pagato dagli investitori pubblicitari.